quello che abbiamo in mente di fare noi sarà così particolare così unico che altri penseranno di copiarlo e questa è la nostra grande idea noi vogliamo stupire vogliamo meravigliare i visitatori tutti i turisti che verranno da noi non faranno come come in altri piccoli parchi che trovano in giro per l'italia o in europa e diranno carino il posto perché troveranno solo una due attrazioni da noi ne troveranno 10 o 12 avranno la possibilità di sparare col paintball piuttosto che andare a fare un giro sulle biciclette all'interno del bosco oppure scendere nella pista da downhill è una pista professionale la possibilità di girare coi bobbi di sciare tutta l'estate possibilità di dormire sulle piante vedere gli animali selvatici che girano sotto durante la notte insomma il nostro parco sarà qualcosa di unico di grandioso ovviamente è un parco difficile da realizzare ma i sogni non sono mai stati gratis sono sempre stati difficili e questa la nostra il nostro segreto è proprio questo noi vogliamo trovare il nostro sogno e renderlo realtà per tutti gli altri